C'è il sole ma temperature rigide allo stadio Dall'Ara, Malesani fa quadrato dopo l'ennesima tempesta societaria, preferisce Moras esterno destro basso, conferma Ekdal alle spalle di Ramire Sedivaio. Reia esclude Zarate dall'undici titolare, al suo posto Sculli al debutto in bianco-azzurro. Scaloni sostituisce lo squalificato Licksteiner, arbitra Rocchi di Firenze, novantottesima gara in Serie A. Floccari, limite dell'area, si gira, prova a superare due giocatori, ancora un dribbling in area, Hernanes il triangolo, Floccari, palla è buona, la posizione è regolare e c'è il gol della Lazio dopo quattro minuti e mezzo. Hernanes per Floccari, Divaio fermato da Muslera, forse c'è il fallo. Moras è in area, prova la percussione, va sul fondo, tiene un calcio d'angolo, chiedono il rigore i giocatori delle Bologna. E allora può partire il contropiede del Bologna con De La Roca che lancia in posizione regolare Divaio. A tu per tu con Muslera, la conclusione di Divaio ribattuta dal portiere uruguayano. Per Brocchi il cross al centro dell'area, di testa, è arrivato Floccari, gran parata di Vigliano che mette in calcio d'angolo. Con Ekdal che adesso fa partire Ramirez, entra in area l'uruguayano, il tiro e c'è la rete di Gaston Ramirez al 36esimo minuto di prima intenzione sull'assist dello svedese Ekdal. 1 a 1, perfetta la conclusione di Ramirez. Divaio, palla bassa, scambia con De La Roca, poi Divaio ancora in area, fa fuori le desma, il tiro di Divaio, c'è il vantaggio delle Bologna che ribalta la situazione in appena 3 minuti. Il gol di Divaio al 39esimo minuto, Bologna 2, Lazio 1. Per Zarate, prolunga per Mauri. Ancora Floccari per Zarate, la conclusione a botta sicura con Viviano che respinge. Il fischio di Rocchi di questo primo tempo, Bologna 2, Lazio 1. Adesso si scaldano gli animi, saltano i nervi a qualcuno. E' un giocatore della panchina delle Bologna che è intervenuto in campo, Diaz ha rifilato un ceffone. Il cartellino rosso per quel giocatore della panchina, Gimenez. Espulso anche Diaz dunque. Mauri attacca Mudingai, non riesce a togliere il pallone. Allora il congolese lancia Divaio, il pallone buono con l'uscita di Muslera. E c'è la rete di Marco Divaio al 45esimo che chiude l'incontro. Bologna 3, Lazio 1. Lo scatto di Divaio, il gol bruciante, doppietta del capitano. Tredicesima marcatura stagionale per Marco Divaio. Gioisce Malesani. Mudingai lungo per Divaio. Lo sbaglio di Biava e Divaio. Beffa Muslera. Alla Dallara Rocchi ha chiuso la partita. Bologna 3, Lazio 1. Un buon Bologna fa piccola piccola la Lazio. E adesso sono scintille in campo fra Zarate e Moras. E fra altri giocatori intervengono anche i guardalini. Volano mani e ceffoni ovunque.